Ciao, benvenuti in questo nuovo video di Intanto, in Thailandia, è vietato imbarcare alcuni modelli di MacBook Pro sui voli della Thai IOS International. Il Vice Presidente del Dipartimento della Sicurezza Aerea, Prathana Pattanasiri, ha dichiarato che la compagnia aerea di bandiera, per motivi di sicurezza, vieta l'imbarco dei MacBook Pro da 15 pollici che sono stati venduti tra il 2015 e il 2017. Non saranno ammessi né come bagaglio a mano né come bagaglio da stiva. Il divieto è seguito dopo il divieto applicato dalla Comunità Europea per l'imbarco di questi modelli sia sui voli in entrata che in quelli in uscita dall'Unione Europea. Pare che questo modello specifico di notebook abbia problemi con la batteria. Per questa notizia è tutto, ci vediamo al prossimo video.